La buona fotografia la si fa anche sotto casa, molti pensano che fare delle buone foto bisogna andare all'estero piuttosto che sui teatri di guerra, alcuni dei grandi fotografi probabilmente non hanno mai fatto una fotografia di guerra e restano comunque tali, un giovane soprattutto quelli che si vogliono avvicinare alla fotografia non dovrebbero nemmeno andare molto lontani ma avere soltanto l'idea di quello che si vuole fare perché dietro alla fotografia comunque ci deve essere un pensiero. Grazie a tutti L'incontro è stato abbastanza piacevole anche perché non avendo visto Letizia per lunghissimo tempo mi ha fatto piacere rivederla in questo contesto ed esserla a suo fianco tra le altre cose. L'incontro è stato abbastanza piacevole anche per le altre cose. L'incontro è stato abbastanza piacevole anche per le altre cose. L'incontro è stato abbastanza piacevole anche per le altre cose. L'incontro è stato abbastanza piacevole anche per le altre cose.